Fate largo! Sto arrivando! Traffico lento non è un ostacolo per me! E vai! Grande! Spostati, nonno! Mi scusi! Sì! Oh no! Questo non si fa! Scusate! Ehi tu! Via libera! Polizia di Flip City! Smetti di rotolare ed estrai subito gli arti! Oh, ok! Il quartier generale della polizia! Forte! Ho detto! Sei nei guai fino al collo, bot Maramaldo! Quando ti ho detto di rallentare... Una delizia al silicone! E ora non ti muovere! Oh ma! Tu devi essere Spin! In persona! Lance, vuoi dirmi che stavi facendo? Arrestavo un... Criminale? Signore? Non è un criminale! Ti presento Spin, il nostro nuovo cadetto! Salve! Cosa? Cadetto? Si! Cosa? Se buongé! No! Oh! 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 Una nuova recluta? Non si può prendere qualsiasi bot Maramaldo e farne un poliziotto. È fortissimo! Mi date anche le manette? No! Capitano, potrebbe... Signore, potrei parlarle un minuto in privato? Signore, se mi è concesso, questa è veramente una pessima idea. Voglio dire, lo guardi. Quello è un pezzo scatenato. Non fa nemmeno parte della tribù dei Keisatsu. Spin è un entusiasta. Ma non può diventare quello che non è. Ma certo che può, Lance. Anche tu non sei un clown bot, eppure ti stai comportando come tale. Spin! Lance si prenderà cura di te. Ascolta quello che ti dice, capito? Certamente, capitano Pounder. Sì, signore. Bravo, ragazzo. Lance, sono in ritardo per la riunione. Tieni d'occhio spin e non perderlo di vista nemmeno per un secondo. Non voglio sentire che ci sono stati problemi quando torno in tesi. Sì, signore. Da questa parte, recluta. Allora, Lance, quando è che mi date l'uniforme e tutto il resto? Mi servono una torcia e una sirena e una videocamera e le manette e il distintivo. Oh sì, voglio tanto avere un distintivo. Non avrai niente di tutto ciò. Ma il capitano Pounder ha detto... Il capitano Pounder ha detto che devo addestrarti. Ed è esattamente quello che farà. Forte. Ecco qua. Osservare Flip City da cima a fondo. Ecco come si controlla quello che succede. E visto che sei la nuova recluta, abbiamo per te un lavoro molto speciale. Così mi piace. Sputa l'osso. Come già saprai, questo è un sistema di raccordo 3-0-1. È molto delicato e si guasta in continuazione. Quando questo accade, dobbiamo cercare il piccolo segnale di malfunzionamento. Ok. Parto subito alla ricerca delle lucette lampeggianti. Ciao. Niente affatto. Tu adesso resti qui e le controlli sul pannello una per una. Ok. Ma quante ce ne sono esattamente? 4.379. Esattamente. Ma è da pazzi. Andiamo. Questo è un lavoro adatto per un noioso vecchietto. Ah, grazie. Oh. Ehm. Tu sei... Il noioso vecchietto. Ma chiamami semplicemente Penny. Perfetto. Due fuoricasta per un lavoro da fuoricasta. Divertitevi. Quindi neanche tu sei una Keisatsu. Sai, assomigli un po' a... A una Kusuri? Sì. Ma è una vecchia storia. E tu a che tribù appartieni? Io non appartengo a una tribù. Niente tribù. Oh. Non credevo che fosse possibile. Che posso dire? Sono unico. Aiuto. Presto. Alla banca di Flip City. Invio subito una pattuglia. Cosa è successo? Sono fuggiti. Sono diretti al nord della città. Chi è fuggito? I rapinatori. Hanno preso tutti i soldi. Rapin... Rapinatori? Frena le tue rotelle, recluta. Questo è un lavoro per un Keisatsu vero, non per un qualsiasi... Eh, dove è finito? Oh no! Sono in azione! Avete scelto il giorno sbagliato per infrangere la legge. Questo non ci voleva. Spin non è pronto per entrare in azione. Eh... Oh no! Se il capitano Vander lo viene a sapere, siamo fritti! Calmati, Lance. Andiamo! Polizia di Flip City! Accostate! Ho sempre desiderato dirlo! Non credo proprio! Mancato! E tutto quello che sai fare non basta! Oh oh! No! No! Niiiih... Niih! Ah! Mi farò male! Ahn! Duc! Ah! Devo prepararlo meglio l'atterraggio. Poch, dobbiamo dividerci. Incontriamoci al nascondiglio! chi ti ha dato il comando? Poch! Poche storie! Corri! Va bene, vado! Macro, porta quel contenitore fino al nascondiglio. Al nascondiglio? Pensavo che stessimo tornando a Zeta. Sì, sì, Zeta, che è quello il nascondiglio. Torna lì. Pensi di potercela fare, Macro? Credo di sì! Stupido idiota! Len, Penny, state avvicinando due sospetti? Mi mandiamo i loro dati. I soliti sospetti. Ok, io sto su Bocce. Tu prendi Manx. Io prendo Manx? Attivare sistemi di sicurezza ora. Mi hai fatto rallentare, ma non puoi fermare, Bocce! Bocce, ti dichiaro in arresto! Divertiamoti! Come va il tuo livello di energia? Alla grande! Drenaggio! Lance, hai già ammanettato Manx? Lo prendo come un ovo. Resisti, Lance! Ehi! Kaesatsu! Guarda dove cadi! Dunque, dove stava andando? Oh! Zetan! Farò meglio esprigarmi! Lance, non preoccuparti, sarò pronta a raccoglierti ovunque tu cada! Serve qualcosa di più rapido! Ce l'ho fatta, ho migliorato l'atterraggio. Tutto bene, Lance? Me la sarei cavata benissimo anche senza di te. Oh, i miei ammortizzatori. Resta fermo qui fino all'arrivo di Penny. Io vado a prendere i cattivi! No, aspetta! Non sei ancora qualificato! Per acchiappare i cattivi. Perché a me? Fatto! Proprio come mi avevi ordinato. Dov'è il contenitore di monete, Macro? Oh! Dove sono i soldi? Oh! Oh! Torno subito! Oh! Oh! Trovato! Trovato! Oh, no! Hmm, casa dolce casa, eh? È stato molto più complicato del previsto, Manx. Eccellente il tuo piano! Non sei soddisfatto? Hai bisogno di una bella rimescolata, Botch? Provaci! Ehi, avete visto qualche zatsu prenderle di santa ragione? Finisci la macro! Fatela finita tutti e due e scarichiamo il bottino. E vedete di non perdere niente. Certo, come se qualcuno potesse accorgersene. Pasticci, Botch. Ci servono tutti quelli che ci sono. E chi l'ha detto? Lo dico io! Metti giù le mani! Oh, no! Non pensarci nemmeno! Sono ben oltre il pensare! Non sarebbe molto saggio. Stiamo solo... Basta! Pensate che spetti a voi toccare i miei soldi! Avete sconfitto il nemico, vi teme adesso? Dimmi, Manx, con quel fantastico cervello che ti ritrovi, ti sei assicurata che i keisatsu non vi abbiano seguiti fino a casa? Non fiatare finché non saprai far meglio di un cosori, scioccodrone! Voi tre siete riusciti a fuggire questa volta. Ma mettetevelo bene in testa, non potrete mai governare la città affinché lascerete che i keisatsu decidano del vostro destino. Non vi ho ingaggiati per scappare da loro, vi ho ingaggiati per dominarli! E adesso vediamo cosa ci hanno portato i vostri magri sforzi. Signore, una chiamata per lei sul canale 4 della linea video. Restate qui! Ti avevo detto di non toccare i soldi! Se riprovi a fare una cosa simile, non so chi mi tratterrà da... Guarda, mi tremo tutto dalla paura! Non aver paura, sono uno dei buoni! Come sono contento di vederti! Questo posto mi dà i brividi! Era previsto! Sì, il piano comincia a prendere forma! Esatto! Il momento si avvicina! Flip City cadrà presto! Non finché io sarò di guardia! Sai dov'è il contenitore di monete? Certo! Perché? Dobbiamo portarlo via di qui, ma non abbiamo più tempo! Aspetta! Resta qui finché non ti dico ora, ok ragazzina? Non sono un ragazzino! Come hai detto? Mi chiamo Tinny e non sono un ragazzino! Ti chiedo scusa, piacere di conoscerti Tinny! Io sono l'agente Spin e mi raccomando, resta nascosto finché non dirò ora! Ah, salve! Non fate caso a me! Prendo solo la cassa e me ne vado! Intruso! Non mi ha beccato per un telo! Sta fermo! Non ti faremo male! Sva peggio! Tinny, soldi, porta! Via! Si va in scena! Ho detto ora! No, ho detto oh! Oh, scusa! Preso! Lascialo stare! Vediamo ragazzino! E adesso cosa ne facciamo di questo acrobata? Lasciamelo friggere! Finni, tutto bene là dentro? Spin, siamo già usciti! Non ancora! Allora non mi ha affatto bene! Non preoccuparti, stiamo uscendo! Forse no! Sei proprio bruttino, lo sai? Troppo lento, faccia di ragno! Non mi ha affatto! Le tue ultime parole. Siete tutti... in arresto? Stupido Keisatsu. Le tue parole non valgono niente qui. Aspetta, tu non sei nemmeno un Keisatsu, non è vero? Macro, fermalo! Ce l'ho, boss! Un, due, tre... Oh, la mia testa! Oh, il mio piede! Oh, il mio piede! Non preoccuparti, capo, li inseguiamo! Lasciate perdere! Ah, pista, pista! Non riesco a manovrare questa cosa! Quello è... Un raccordo 3-0-1! E ce la faremo, abbassarci! Spim! Spim, sei bene! Ma certo! Perché? Avevi dubbi? Sì, sì, sì! Ne parliamo dopo! Dobbiamo restituire questi soldi, prima che il capitano Pound ritorni! È un po' brontolone o sbaglio? Non posso dirti quanto. Magari possiamo rapinare di nuovo la banca la prossima settimana, così li prendiamo di sorpresa. Meglio di no. Mi pare che abbia il livello dell'olio un po' basso. Credono che sia una questione di soldi. Ehi, hai fatto un bel lavoro, Spin. Grazie, Penny, anche tu. Basta, non un'altra parola. Se il capitano Pounder scopre che ho perso di vista la recluta, ci ritroviamo tutti a fare le babysitter e i raccordi. Quindi vi proibisco di parlare di banca e rapinatori. E di ragni. Hai detto ragni? Quali ragni? Vertex, è una specie di ragno. Perché tu non lo sapevi? Basta! È proprio questo tipo di chiacchiere che fa espellere un bot dall'arma. Vertex non è un ragno e voi non lo disturberete né inventerete storie su di lui. Dovete lasciarlo in pace! Ma... Questa non è una conversazione recluta, è un ordine! Sì, signore. Allora, cosa diavolo è successo oggi? C'è qualcosa che deve dirmi, Lance? Beh, ecco, in realtà... Ecco, noi... Siamo contenti di rivederla, signore. Va bene, tornate al lavoro. Sarò nel mio ufficio. L'hai sparata grossa, recluta. Ragno. Io so quello che ho visto. E sarò in grado di dimostrarvelo.